La terza edizione è questa Underland che si sta organizzando, quindi è il terzo anno, non è da tanto che stanno organizzando questo evento. Abbiamo fatto una decorazione dell'anno 2019, così vi ricordate quando siete stati qua a visitare Cricova. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!